Stamattina a Nola abbiamo avuto una sorpresa, la nolana Rossello Micci, presidente di Emersonus. Perché è venuta a Nola? Perché oggi parliamo di pace in un contesto internazionale molto complesso come questo, organizzato dai Lions qui al seminario vescovile di Nola ed è una bella opportunità per tornare a parlare dei valori fondanti della nostra Costituzione che è la pace e sperando che oltre a parlarne poi ci sia qualcuno che la costumisca la pace. Come sta la situazione di emergenza in Africa? Lavoriamo tanto perché purtroppo i bisogni aumentano, aumentano in Africa, continuano ad aumentare la violenza e la guerra in Afghanistan, adesso una nuova epidemia di Ebola in Uganda, continuiamo a lavorare in Italia, tra un po' avremo una nostra nave per fare salvataggi nel Mediterraneo, è già pronta, partirà tra qualche giorno. Quindi purtroppo i bisogni aumentano e il nostro impegno anche. Speriamo che stiano in tanti a sostenerci.